...fino al 2008, sono dei gran professionisti, sono loro, sono semplicemente lo studio danze 1 di Termoli sono una coppia davvero, davvero molto, molto affiatata sia nella vita che nella carriera professionale io chiederei un grosso applauso a Nicola Colatriano e Filomena De Martino Grazie 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Campioni del ballo e campioni della vita, i nostri talenti, davvero, Nicola Coletriano e Filomena De Martino! E allora loro sono gli studio danze, poi li conosciremo meglio!